È stato quel giorno che ho deciso, un incidente facendo le corna e i miei organi sarebbero stati pronti per qualcun altro. L'ho chiesto pensando ai miei, alla mia donna, per togliere a loro di dover prendere la decisione in un momento difficile. E andava bene così. E andava bene così.